Musica Parliamo tanto di far vivere un'esperienza al turista di turismo esperienziale ma per far vivere un'esperienza diciamo ci deve essere la tendenza a che il turista, la turista stia bene si trovi a proprio agio si senta a casa sua questa è l'aspirazione che noi abbiamo per la Puglia in questo caso l'esperienza è proprio quella della famiglia il turismo della famiglia è un turismo che spende è un turismo che vuole vivere il territorio che vuole conoscere i luoghi che cerca identità, autenticità ed è un turismo che ovviamente chiede servizi per cui ci vuole un confronto proficuo tra operatori economici a vario titolo quelli delle strutture ricettive quelli della ristorazione quelli che si propongono per l'accoglienza e dall'altra parte la regione e i comuni insomma una grande intesa vorremmo dire un grande patto per generare servizi migliori e un turismo più accogliente grazie a tutti grazie a tutti